Nuovo confronto al vertice dopo quello di Matteo degli scorsi giorni, oggi vediamo a confronto Samsung Galaxy S24 Ultra e Xiaomi 14 Ultra, due degli smartphone più desiderati di questo 2024. La battaglia non è scontata perché ci sono tanti aspetti da valutare, da inserire in ogni confronto, cosa che facciamo come sempre in questa nostra tipologia di video face to face, scontro diretto, iniziamo subito perché c'è molto da dire. Il primo punto come sempre è sul prezzo, 1499€ da una parte e 1499€ dall'altra, stesso prezzo ma Samsung ha il vantaggio tra virgolette di essere uscito un po' prima, quindi di essere ormai disponibile anche a prezzi più bassi, soprattutto online, vi lascio qualche link in descrizione alle offerte più allettanti, mentre Xiaomi 14 Ultra aveva un'ottima promozione lancio che regava il kit fotografia, lo smartwatch, la basetta di ricarica wireless e insomma un bel pacchetto per cui si andava a pagare lo smartphone decisamente di meno. Promo ormai è scaduta e se guardiamo allo scorso anno Xiaomi non tira giù né il prezzo né ripropone la promo, quindi salvo smentite potrebbe rimanere proprio su 1499€. Dunque chi è che vince questo primo punto? Beh lo vince Samsung che di fatto è quello che lo si può acquistare in genere a meno, sia con le promozioni sia con uno state price più basso. Difficile dire chi vinca a questo punto anche perché fino ad oggi nessuno si è cimentato in un crash test o scratch test, nemmeno il glorioso Jerry Rig Everything probabilmente lo farà prossimamente e la cosa qui è interessante perché Xiaomi dice di aver realizzato uno smartphone veramente veramente resistente. La scocca è realizzata in una particolare lega di alluminio che secondo l'azienda resiste infatti alle torsioni meglio di quanto faccia la scocca in alluminio e titanio di iPhone 15 Pro Max. D'altro canto Samsung ha cambiato il suo frame in armor alluminio e ha portato con questo S24 Ultra direttamente una lega mista titanio proprio come fatto da Apple. Insomma complessivamente niente da recriminare a entrambe le aziende anche dal punto di vista dell'ergonomia siamo lì. Entrambi sono smartphone enormi e questo è chiaro a tutti, ma Xiaomi 14 Ultra è leggermente più stretto mentre S24 Ultra è leggermente più sottile. Idem sulla presa dove pur essendo complicata su entrambi una volta in mano difficilmente sono smartphone che scivolano da un punto di vista per S24 Ultra perché i materiali sono comunque leggermente rubidi per cui fanno un buon grip mentre Xiaomi 14 Ultra ha questo retro in similpelle che aumenta di fatto il grip. Entrambi sono poi certificati contro acqua e poveri P68, entrambi sono ultra resistenti anche frontalmente ma adesso ci arriviamo di conseguenza diamo il punto in questo caso a entrambi. Xiaomi 14 Ultra non adotta un vetro Gorilla Glass di Corning ma un vetro rinforzato proprietario per la prima volta lo Xiaomi Shield Glass con una durezza sulla scala Vickers di 860 che per darvi un'idea è leggermente superiore a un vetro temperato che è di 670 e proprio questo dato è quello che ha anche il Gorilla Victus 2 che è lo schermo protettivo precedente, il vetro protettivo precedente rispetto al nuovo Gorilla Armor di S24 Ultra di cui purtroppo abbiamo veramente pochissimi dati però ha una caratteristica peculiare come già detto nella recensione che auspico di ritrovare su tutti i prossimi top di gamma ovvero ha una bassa riflettanza tant'è che riesce a ridurre del 75% i riflessi. Potrebbe sembrare di poco conto ma vi invito ad andare in un negozio a vedere con mano la differenza tra lo schermo di S24 Ultra e lo schermo anche di S24 che non lo ha oppure della concorrenza vedrete subito la differenza è veramente netta e il sollievo per gli occhi durante l'utilizzo di tutti i giorni è veramente veramente importante. Passando ai display sottostanti qui abbiamo specifiche simili. Xiaomi adotta un TCL C8 mentre Samsung uno dei suoi pannelli. Sulla carta e nella pratica come ricevo siamo lì entrambi arrivano a oltre 2500 nits di luminosità di picco entrambi sono LTPO quindi con refresh rate variabile dinamico a 120 hertz con supporto HDR10. Sul Samsung però manca ancora una volta il supporto Dolby Vision per chi interessasse. Però questo schermo protettivo così game changer mi fa dare il punto a Samsung. Come sappiamo qui dipende ovviamente dal utilizzo di ciascuno di voi ma a parità di utilizzo posso darvi un'informazione di comparativa e in genere Xiaomi è quello che riesce a fare un filo meno in termini di autonomia un 10 15% in meno rispetto a Samsung Galaxy S24 Ultra che arriva tra le 6 e le 6 ore e mezza di schermo acceso durante la giornata contro Xiaomi che arriva sulle 5 ore e mezza di schermo acceso durante la giornata. Entrambi comunque arrivano a sera grazie alla loro batteria da 5000 mAh importante differenza però la velocità di ricarica di questi smartphone perché Xiaomi arriva con una ricarica cablata di 90 watt tra l'altro con alimentatori inclusi in confezione e wireless a 80 watt mentre Samsung ha il suo tipico 45 watt di picco in media 25 watt di ricarica. Di conseguenza Xiaomi si ricarica praticamente in 30 minuti mentre il Samsung nel doppio del tempo circa. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per entrambi quindi parità di hardware a differenza di S24 e S24 Plus che vi ricordo avere invece un processore Exynos parità anche per le memorie UFS 4.0 ma Samsung ha quelle 4 Galaxy sempre in più sul processore che significa una collaborazione con Qualcomm per avere una spintarella aggiuntiva che fatemelo dire siccome lo fanno perché la One UI è un po' più pesante degli altri software ma comunque ci arriviamo fra poco. La potenza c'è su entrambi ovviamente ma come sappiamo la potenza è nulla senza il controllo in questo caso forse sarebbe meglio dire senza una dissipazione adeguata. In questo caso devo dire che nessuno dei due ha mai scaldato eccessivamente ma chi diventa un po' più caldo è Xiaomi e c'è un motivo negli stress prolungati resta veramente inflessibile con un solo leggerissimo drop di prestazioni contro un Samsung che invece taglia leggermente di più per mantenere più bassa appunto la temperatura media del processore e del telefono stesso. In termini pratici non si nota praticamente nessuna differenza tra i due diciamo che fa più differenza la diversità di animazioni dei due smartphone. Nei benchmark i valori sono molto molto simili dunque in conclusione anche in questo caso parecchio. E qui passiamo al software dove il punto ve lo dico subito va a Samsung e il motivo è abbastanza chiaro. Parliamo di una Samsung One UI 6.1 che non solo è un Android con un'interfaccia grafica ma ha in aggiunta la Galaxy AI ha in aggiunta aggiornamenti garantiti per sette anni sia di Android che di patch di sicurezza ha inoltre tantissime altre funzionalità storiche come la Dex, ha l'S-Pen, il supporto all'S-Pen con tutto ciò che ne deriva eccetera eccetera eccetera. Insomma la conosciamo bene è un'interfaccia completa anzi è l'interfaccia completa più completa del mercato anche rispetto a Google Pixel che da accanto su invece è un'interfaccia forse più bella da vedere ma complessivamente meno funzionale. Meno funzionale come la nuova HyperOS di Xiaomi. Qui Xiaomi ha deciso di fare un lavoro un po' diverso rispetto a Samsung non stra-arricchire il software di funzionalità ma anzi andarlo a ottimizzare a livello di peso. Infatti è sempre Android 14 con interfaccia MIUI possiamo sempre chiamarla ma sotto un diverso nome e un diverso peso, un peso decisamente inferiore. Però c'è pochino dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, probabilmente Xiaomi tirerà fuori qualcosa più avanti, c'è qualcosa nell'editing foto come già sappiamo e nell'editing video e non c'è praticamente nulla invece per il collegamento ai computer per trasformare lo smartphone in un computer. Al di là di questo però c'è tutta una nuova interconnessione, un ampliamento dell'ecosistema, una facilitazione dell'ecosistema che HyperOS dovrebbe proprio comportare perché dovrebbe permettere un migliore interfacciamento con tutto ciò che riguarda l'ecosistema di Xiaomi. Tutti i vari prodotti sono tantissimi e a cui si è giunta anche di recente la Xiaomi su 7 che è la sua prima auto elettrica. Ah e qui arriviamo al nocciolo della questione, questione intricata perché dipende molto da come interpretate diciamo la fotografia su uno smartphone da 1500 euro. Da un punto di vista infatti quando si spendono così tanti soldi si vuole avere ovviamente l'hardware migliore sul mercato. Dall'altra però se si spendono così tanti soldi si vuole avere anche un software che è capace di punta, scatta e avere la foto praticamente migliore o comunque perfetta. Iniziamo col dire che il miglior hardware ce l'ha Xiaomi che ha fatto uno sforzo veramente incredibile per inserire dei sensori veramente veramente interessanti. Il principale innanzitutto è un 50 megapixel con apertura variabile f1.9 fino a f4.0 cioè ha veramente una parte meccanica che si muove per andare a chiudere o aprire il sensore. Si tratta poi di un poker di sensori da 50 megapixel, gli altri tre sono uno stesso sensore utilizzato per tutti e tre con diciamo una con focali equivalenti differenti 12 mm, 75 mm e 120 mm in altre parole ultra grande angolare zoom 3,2x zoom 5x. Come detto nella relativa recensione è lo smartphone più interessante per un fotografo, per un professionista dell'immagine ma non è il migliore per chi si ama le foto ma non al punto da ritoccarle praticamente tutte per imprimere la propria firma stilistica. E' infatti più debole della maggior parte dei top di gamma proprio nel punta e scatta ma il più forte nel raw dato che può scattare in ultra raw con tutte le fotocamere e si ottengono veramente degli ottimi file lavorabili. Non che Samsung non possa farlo ma è inferiore e non tanto per colpa dello smartphone o del software ma per colpa dei sensori che ormai sono un po' diciamo superati. Il grande vantaggio è che Samsung riesce a spremere veramente a fondo questi sensori realizzando delle foto punta e scatta migliori di Xiaomi. Non le migliori del mercato lo sappiamo Pixel 8 Pro e Honor Magic 6 Pro riescono a fare così di meglio ma comunque migliori di Xiaomi e comunque decisamente buone. Giusto per ricordarvi 200 megapixel sensore principale 50 megapixel sensore zoom con il gradimento 5x è il sensore nuovo rispetto al passato perché riduce lo zoom ma aumentano diciamo i megapixel e poi ci sono i due sensori che stonano un po' di più la ultra grande angolare a 10 megapixel e il teleobiettivo da 3,2x anch'esso da 10 megapixel. Anche parlando di video il discorso è molto simile possiamo registrare ad esempio il log sul sensore principale di Xiaomi ma niente log sul Samsung ma nel punta e video se possiamo chiamarlo così la qualità è molto simile ma Samsung ha una leggera marcia in più. Dunque tornando alla domanda iniziale preferite quando spendete 1.500 euro avere il miglior hardware o il miglior punta e scatta? La risposta la dovete dare voi e anche il successivo punto dalla mia personalissima opinione preferisco premiare chi ha chi si è impegnato di più dal punto di vista hardware perché una volta che c'è l'hardware ci vorrebbe anche poco fare software ma questo è un altro discorso. Eccoci dunque alle conclusioni qua avete la votazione completa 6 a 4 vittoria di Samsung una vittoria comunque non schiacciante perché anche Xiaomi 14 Ultra è valido su tantissimi ambiti alcuni voti sono stati proprio sul filo di lana ma Samsung di fatto propone un pacchetto un po' più completo è quello che come abbiamo già detto anche nel confrontone nella chiacchierata con Matteo è quello che risponde maggiormente a delle esigenze più variegate mentre Xiaomi 14 Ultra è uno smartphone più puntuale per chi ama la fotografia e che vuole andare a lavorare in post produzione le foto senza doversi portare sempre dietro una fotocamera è sicuramente un'ottima alternativa molto più leggera molto più funzionale perché ovviamente è uno smartphone e anche per questo video era tutto vi aspetto nei commenti se avete ulteriori domande rispondiamo al solito quanto prima lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti un saluto amica per un androide.net